ecco pronta la valigia si si adesso la vado a fare la valigia no la valigia? non è necessario è tutto a posto cioè si fa pace non ne posso veramente più ragazzi io me ne vado di casa non va questo mouse mamma cosa si mangia oggi a pranzo? chiedilo a tuo padre papà cosa si mangia oggi a pranzo? chiedi a tua mamma non lo so ah certo lui non lo sa non lo sa certo no non lo so certo non lo so io vado su in camera ecco allora probabilmente non mangeremo niente non ho né i nostri figli assolutamente nulla perchè io sto lavorando eh perchè io invece ne sto facendo vabbè io me ne vado anzi mi sta squillando il telefono vado a rispondere pronto? si pronto ciao ito bella no guarda non puoi capire no non puoi capire quello che è successo cosa cosa è successo? ehi fammi parlare che te lo dico praticamente ieri Dario si è messo a essere tutto strano non faceva il letto e non solo non ha fatto il letto praticamente me lo ha disfato poi cos'altro è successo? ah si mi doveva preparare il caffè e se l'ha bevuto lui e ha sporcato tutto il tavolo e poi come se non bastasse si cosa? no 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 è colpa sua è colpa sua ne sono sicura chi altro potrebbe essere stato comunque non ho finito la cosa più grave è stata che sul suo telefono c'era praticamente la foto che si baciava con un'altra si esatto hai capito bene e secondo te io che cosa dovrei fare? dovrei stare qui ad aspettare che lui cosa? no no assolutamente no no non mi dire che no non mi no senti vuoi che ti riattacco o mi dai ragione a me? ah ok infatti ho ragione io si ecco e praticamente adesso sono più arrabbiato io di lui il diritto ce l'ho più io di essere arrabbiato non esiste che lui vale arrabbiato quando sono arrabbiato più io hai dato? si ci risentiamo presto ah scusa comunque mi volevi dire qualcosa? no eh? ah ok vabbè allora presto 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 e niente vabbè forse ho un po' esagerato con la mia amica comunque amicetti io sono molto arrabbiata l'avete visto il video precedente? guardate ve lo lascio qua sotto Dario mi ha fatto infuriare e forse è arrivata la fine della nostra relazione ma non ho mai ma mamma non farò mai è tuttoimo è colpa tua culpa di tutti e tu anche tu eri d'accordo è stata un'idea pessima si per colpa tua e cosa che non farò ... nooooo Interesting Ho proprio bisogno di un bel caffè Ho proprio bisogno di un bel caffè Vado a farmelo Ti sposti? Ti vuoi togliere? E non pensai che ti faccio un caffè Hai capito? Le caffine sono mie Le caffine sono mie Quello è vero, però le caffine sono tutte mie Ma le caffine sono tutte mie E non avrai il caffè Abbiamo creato due morti Doviamo assolutamente rimediare Però le caffine sono mie Le caffine sono mie Mi manca l'aria Come facciamo senza città? Non ci passiamo La caffine è mia Ma dove mai? Ma dove mai? Ma io mi fai cadere La segnalo pagato io Con i nostri soldi Ah, l'hai pagata tu E allora tienila se E non usare il tavolo Che l'ho pagato io questo E allora tu starai in piedi La cocco in tivana L'ho pagato io E questo è mio E quindi mi stendo sopra Hai capito? E adesso me ne posso Ah, l'ho pagato Ah, l'ho pagato io 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 Ma io di chi sono figlio Nessuno mi vuole qua Basta ridicare Mamma, papà Hai ragione Dai, vieni qua Ma io mi fai Anzi, io vado a fare la spesa Mamma Meno male che va a fare la spesa Per una volta Visto che la faccio sempre io Meno male che la sedia l'ho trovata Ma Cosa? Cosa vedo? Nadia, aspettami Che vengo a fare la spesa con te Adesso me ne vado A fare la spesa da sola E non so neanche se fanno più Nadia Aspetta Ti devo fare vedere una cosa Non ti voglio qua Non abbiamo più niente da dirci Noi due Basta, è finita Ma è importante Fammi vedere Guarda Queste sono le telecamere della nostra casa Cosa devo vedere? Guarda, guarda bene Tieni questi Beh dai Che ti stupere Quindi il caffè Sono stati loro E certo che sono stati loro Mica io Ma andiamo avanti Ma anche lo scoreggio Sono stati loro Te l'ho detto Te l'ho detto E adesso però mi devi dire Come te la spieghi la bionda Anche questo Solo anche questo Guarda Questa è la bionda Guarda in che posizione è E guarda Amicetti Ma era questa Ma era questa la foto originale È stata palesemente modificata E chi sarà stato secondo te? Chi sarà stato? Sono stati quei due Dario Dobbiamo attuare un piano maledico Per vendicarci Sì Ok Ora facciamo finta di essere usciti E quando torneremo Avremo la nostra vendetta Alto che spesa Abbiamo rovinato Tutta la nostra famiglia Vabbè dai Giorgio È tutta colpa di una Ma non è vero È colpa di tutti e due E comunque tu sei anche fortunata A me nessuno ha tirato per le braccia Qual è che mi hanno fatto un male? Sì Eri solo tu la contesa là A me non vuole nessuno Mai Dobbiamo trovare un modo per rimediare Sì sì assolutamente A me mi è venuta un'idea Ma se facciamo tutti i servi? Ancora no? Ma basta Dobbiamo sempre servire mamma e papà Sì Vabbè dai L'idea è stata mia E io ripulirò tutto Quindi sì dai ci sto Ok Dai andiamo Il servo Il servo devo fare E' il tuo prima io Dai fammi passare Ma perché devi passare tu? Ma che gentiluomo sei? Chiudi sta porta Ricordo che questa è casa mia No colino Eh no Il divano è mio Non c'è più niente di nostro E anche la cucina è mia Hai capito che non c'è più niente di nostro qua Ehi eccovi Eh volete che vi facciamo qualcosa? Tutto quello che volete? Sì Cuciniamo noi Sì Facciamo le stoviglie Speriamo Laviamo Lavatrice Non mi tocca No neanche tu Ah come mai eh Ok ragazzi sì Potete fare tutto quello che volete Grazie Fanno tutto loro Cucinare Lavatrice Lavastriglie Sì Ok L'unica cosa è che la valigia me la preparo da sola E adesso fatemi passare E a me le unghie Ecco Pronta la valigia Sì sì Adesso la vado a fare La valigia no La valigia È necessario È tutto a posto Cioè Si fa pace Non ne posso veramente più Ragazzi Io me ne vado di tanto Sì Sì Mi ne vado di tanto Preparo preparo Sì me preparo 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 anche l'unico E muoviti anche Muoviti E sappiate che voi non verrete con me per adesso Meno male Dovremmo andare in tribunale per decidere Tribunale Di voi Io ti prego ci voglio andare E chi di voi resterà con vostro padre Avete capito? Tutti vogliono rimanere con mio padre Ah no Con me Lo sappiamo fatto Ragazzi la situazione Ragazzi la situazione è molto grave No Le firmano Sì sì Adesso dovremmo chiamare l'avvocato E cercare di decidere cosa fare Questa casa la venderemo Ognuno andrà in una casa diversa Speriamo che non chiamino gli assistenti sociali Ti prego fai la bacio con la mamma Non chiamare l'avvocato No 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 Devo chiamare l'avvocato Poi ci sono anche punte e virgola Anche loro saranno dati a un gattile Ma come? I miei gatti? Eh sì Anche loro Sono le cose che succedono in questi casi Ragazzi No 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 Tutta colpa tua Ricchia Tutta colpa tua Ok ragazzi Mamma Non c'è più niente che mi lega a questo posto Lasciamo tutto Non mi segui No Mi è venuta un'idea Ma se noi diciamo a papà e alla mamma che stiamo stai a noi Magari torneranno insieme Confessare tutto Mamma e papà Sì Papà Ebbene cosa? Ebbene cosa? Papà Questa è una delle ragioni che lui mi ha lasciato Il letto Ma la cosa più gravica è dovevo farla adesso io Tutti i giorni No Papà 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 Quando c'è ragazzi? Ti dobbiamo dire una cosa Una cosa molto importante Qual cosa? Molto In realtà siamo stati noi a fare tutto questo Sì Devo camminare su lei Ma che senso tutto vuoi? Tutte le marechelle che hai combinato tu In realtà siamo stati noi No no ragazzi No smettete Mi fai lasciare con la mamma Non ci credo Smettetelo No è stato in giocato di tirarmi su di morale Papà Ebbè Papà Credici Cerca di includare Sei stato tu No non sei stato tu Né questo Nel caffè Nel crackers Ma sei stato tu Dai Dai La mamma è ormai data via Poi dei Non ci finitela a fare E continueremo così Ci sarà il tribunale L'avvocato Anzi Papà Dopo Dopo devo chiamare l'avvocato Dai Amai Io lo devi dire Devi tornare insieme alla mamma No no Non è possibile Ormai la mamma Ormai la mamma ha preso la sua decisione La tua mente non è lucida Non è mai stata lucida la mia mente Dai Guarda come facciamo Andate lì là Nella vostra stanza Io sono distrutto Dopodistutto E ci vediamo domani Dai Io vedo in camera mia E anch'io Riky devi chiamare la mamma assolutamente Ok Mamma Al telefono Al telefono Ok 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 Chiamiamola mamma Ok Ma perché sei in camera mia tu Aspettiamo che squiglia Pronto Mamma Devi assolutamente tornare a casa Ma è tutta colpa nostra Guarda Riky No Mi dispiace ma Quello che mi stai dicendo Non mi interessa Oh mamma veramente Ci devi credere Sì papì Noi non possiamo vivere senza di te E il papà Non sa neanche versare un po' d'olio sul pane Inutile che piangete Ho detto di no No Basta Vabbè Riattacco Io ho attaccato Tutta colpa tua No tutta colpa tua Lo so E' inutile continuare amicetti Non hanno capito E' finita Basta Io me sono andata di casa E adesso Saranno i giudici A decidere che fine faranno i ragazzi Con chi vivranno Dove andranno E dovranno subire le conseguenze Di quello che hanno fatto Già Era Riccardo vero? Ecco sì sì Era Riccardo Figurati Piangevano disperati Come andate con te? Guarda Li ho fregati in pieno Ci stanno credendo assolutamente Che ci siamo lasciati Ma io te non ci lascerò mai amore Adesso Gli faremo Gli faremo pagare E comunque amicetti Lo so che siamo un po' cattivelli Ma loro sono stati più cattivi di noi Ecco si imparano Hanno tentato di farci lasciare Hanno fatto delle cattiverie E quindi dobbiamo vendicarci Una piccola vendetta Sì qualche lacrimuccia Ma Perlomeno impareranno la lezione Sì una lacrimuccia Ma a fin di bene Sicuramente Voi non vi perdete Il prossimo episodio Perché vedrete come andrà a finire E ci sarà da ridere Almeno noi rideremo Forse loro non tanto Ciao amicetti Ciao Dette un like Iscrivetevi al canale E un super bacione Oh amore Noi dovremo finire In un altro giorno I tatuaggi e le color bomb di Ninna e Matti Sono in edicola e su Amazon Comprale e taggaci in una foto Giada e le sue amiche Aspettano un bambino Giada oggi ha invitato a casa La sua amica Nadiella E ha scoperto Che è in dolce attesa Riti Ha dovuto servirla E riverirla Dopo che anche Giada Ha annunciato la sua dolce attesa Però Ha deciso di vendicarsi E siete curiosi Di sapere Chi è arrivato dopo Non perdetevi il resto del video E già che ci siete Lasciate un bel like Questo no Quest'altro no Ma chi è sta roba Che noia Riti Sei impazzita Lo sai che oggi arriva una mia amica Ma chi se ne frega Io sto guardando la tv Che me ne frega Della tua amica È simpaticissima È bellissima Ti sarò di sicuro simpatica Sì se lo dici tu Vabbè Si chiama Nadiella Guarda il nome ci promette bene Dai lasciami guardare la tv in pace Non c'è nulla di interessante però oggi in tv Dai tu entra Grazie grazie Giada Ciao che bello essere qui Sono contentissima E cosa facciamo oggi Intanto ti presento il mio fratello No 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 Io sto guardando la partita Lasciatemi lasato qua Lasciatemi stare Piacere Io sono Nadiella Piacessissimo Piacessissimo Piacere Riccardo Ciao ciao Riccardo Ho la borsetta Guarda Bellissima Le lol È una amica Sì va bene Allora andate a giocare di sopra Cosa facciamo Dada Dai andiamo di là Meno male Io adesso mi guardo un po' di tv In santa pace Senti Giada Ma tu davvero Non hai notato niente di diverso in me? Ehm Hai una borsetta nuova? No Guarda meglio Se non è quello Può essere Una nuova pettinatura? No Guarda molto meglio Ah Hai un buco nel testo Come buco? Di cosa parli? Oddio Che figuraccia Non era quello però Ma non lo ho di niente Ah Ti sei un po' ingrassata Come 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 cosa? No Aspetta un bambino Non vedi Sono incinta Che bello Sì Maschio Come hai fatto salto Se sei incinta? Hai ragione Non bisogna mai saltare troppo Quando si è incinte Hai ragione Adesso Facciamo qualcosa di più Trascurillo Maschio femmina Allora non ci crederai Ma sono due genelli E chi è maschio su femmina? E uno è un maschio E uno è una femmina Ah che bello Hai ragione Sono anche un po' stacco mal di schiena Ma tuo fratello Ricky Non è che mi prenderebbe un bicchiere d'acqua Cioè non c'è Ricky Ricky Incendio Guarda che la mia amica è incinta Quindi devi portare un bicchiere d'acqua pieno Pieno di acqua L'acqua è in frigo? Cosa siete? Non ci avete le mani? Non lo so io la devo portare L'acqua alla tua amica Sì Ma perché sembra a me? Grazie di aver rivelato il posto Mi ci voleva proprio Ma che cosa c'è qua dietro? E dai Il telecomando Che bello essere tra amiche Adesso siamo in quattro Piano il pancione è delicato Siamo in quattro Acqua Ho sete Dov'è tuo fratello? Amicetti io lo sapevo che le amiche di Giada non portano mai nulla di buono Vabbè andiamo a portarle quest'acqua Ma come si chiameranno le cuccioline qui dentro? Allora il maschietto pensavo di chiamarlo Giado Giado? Sì Giado Mi piaceva un sacco il tuo nome E quindi lui si chiamerà Giado E la femminuccia si chiamerà Giadina Che ne pensi? Va bene Non ti piacciono i nomi con i miei figli? No Non toccarli se non ti piacciono i nomi Me lo giuri? Noi siamo amiche del cuore Quindi si chiamerà Giado e Giadina Sì Ah ok Ma dov'è quest'acqua? Io ho sete Ecco mia Ecco mia Che fatica Ne lascio un po' per la signorina qua incinta Sennò si lamenta troppo Come? Non ci ho messo il veleno giuro Vabbè vabbè E comunque è bellissimo avere il pancione Non sapete quali emozioni L'unica cosa è che sai Ho dovuto cambiare tutto il mio guardaroba Perché non stavo più dentro a niente Non vedo l'ora che nascano Riccardo Ho bisogno di qualcosa per appoggiare i piedi E qualcosa per appoggiare Dai Anch'io Ricchie E tu non sei incinta Giada Dai no Me lo prende Ma cosa siamo diventati qua? Ecco lo sgabellino Anche per te Ok Adesso per favore mi porteresti tipo un cuscino da mettere dietro la schiena in più? Cuscino? Eccolo qua Ma non sai quanto gentile? Giada però sono io quella incinta eh Ecco Stavo c'è per me Me lo devi stoppacciare e mettere dietro Vai dietro al divano E me lo sistemi per piacere Ma che fratello male bucato che hai eh Devo fare i miei chilometri Dai stoppaccia Stoppacciare Sai cos'è stoppacciare? Perché hai portato la tua amica qua? Giada Meno male che ci sei tu Lui non capisci una mazza Ok va bene Allora io direi che adesso che siamo a posto con gli sgabelli e i cuscini Usciamo fuori a giocare Dai Usciamo Brava Che volano Sono i pioppi Noi neve Stanno in mezzo Io sono allergica ai pioppi Riccardo Adesso tu Visto che io sono incinta E potrei avere dei malanni Dovuti ai pioppi E tu li dovrai raccogliere per me Tutti quanti Dai muoviti Ma non è neve Io sto morendo di freddo Muoviti Ma quelli pioppi Inizia a raccoglierli Tutti quanti li devi raccogliere Ma dove li hanno visti i pioppi? Questa mi sembra neve Ma poi sono impossibili Appena li prendi E loro scappano Cioè Ah Poi non erano in autunno E gli occhi La 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 È bellissimo Aspettare due giornalini Sono troppo carini Cosa c'è Giordi Anche io vorrei fare dei bambini E vorrei essere riverita da mio fratello Hai ragione In effetti È veramente comodo Essere serviti e riveriti Ma ti devo dire Un segreto nell'orecchio Aspettate amicetti Non so come dirtelo Ma Nadiella mi sta dicendo che la tua pancia è finta Sì ti sto proprio dicendo questo Guarda Però non lo diciamo a tuo fratello Shhh Acqua in bocca Perché qui in questa porta ne ho una anche per te Dai andiamo 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 Sono sacchissimi Sono sacchissimi Ehi Giordi hai cambiato il vestito Ciao E non solo Cosa hai partorito? No la pancia ce l'hai ancora No no Guarda io Guardate ah Notate qualcosa Non ci sono più pioppi in giardino Ma guarda io Non hai notato che è tua sorella E anche lei Cosa ingressata? INCINTA Che cosa? No Non può essere Incinta Ma come è possibile? Prima eri Gatta Adesso sei Incinta No Sto sognando E ho già scelto i nomi Ti avvi lo schiaffo Ho già scelto i nomi Lo schiaffo te lo puoi anche tirare Se vuoi te ne tiro anche Però Sto sognando Io avrei bisogno Un massaggio alla mano Perché mi si gonfia sempre E gli anelli Poi mi danno un figlio Dammi a meno A lei a meno Facciamo un po' per uno Vabbè ho due mani Ha due mani Bravo infatti Stavi dicendo che hai già scelto i nomi dei tuoi gemelli? Gemelli Melissa E Giovanni Pensa che poi dovrei aiutarci a curarli Pensa che bello avere tanti bambini intorno a te Che giocano Che vogliono stare sempre con te Che ti chiedono E la papà che gli dovrei cambiare i pannullini pieni di cacca Ma che meraviglia Dai massaggia Immobiliari.it Sì una casa lontano Non l'ho capito Vabbè andiamo a saltare sul salterello Noi Giada 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 L'abbiamo fregato completamente Ho scelto dei bei nomi I nomi sono stupendi Comunque Tuo fratello ci è cascato come una piera Dai andiamo È proprio un bambito tuo fratello Dai andiamo a saltare Ma che cosa stanno facendo? Ma stanno saltando È pericoloso Sono incinte Non potete Non saltate Non saltate Vi fate male Attenzione Aiuto Ho paura È proprio un bambione Dai dai Giada Andiamo a scivolare Cori 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 Non scivolo Aspettate Non potete No No Daniella Non puoi Non puoi Sei incinta Scendi da questo scivolo Aiuto Mi fai di ma Non puoi Sei incinta E ti fai male Giada pure tu Cosa Perché sei scivolata? Allora Senti Riccardello Poi per favore Riccardo Per favore Nadiella Farima Con Riccardella Quindi Riccardella Farima Con Riccardella Sei pazzita Ho sete Vanno a prendere l'acqua 8 7 Va bene Vado a prendere l'acqua Della piscina Perché non ci fa fare niente? Appunto Lui non ci fa fare niente E io mi sto stufando Io voglio giocare Non mi interessa Io volevo solo essere servita E giocare E invece così Lui non ha capito Che stiamo fingendo Però Non credo che recitiamo bene Ok Ma Dobbiamo anche convincerlo Che possiamo giocare Come possiamo fare? Dobbiamo trovare un mago Ok Vabbè intanto scivola Dai dai Che cosa hanno detto? Ma l'avete sentito i micetti? Ma qui li stanno fingendo Non è veramente incinta Anzi Nessuna delle due È veramente incinte Pensavano di farla a me A me Che sono super intelligente E più intelligente della famiglia E quindi Adesso gliela farò vedere io Allora due E ho E ho E ho Volete giocare anche voi Bellissimo Ciao ragazze Sono Riccarduccia Ciao Giada Tu fratella mi ha fatto entrare dal box Riccarduccia Riccarduccia Sada Ciao Cosa ci fai qui Nadiella Chi ti ha invitato? Nessuno E questa che cos'è? È mio bambino Sei anche tu incinta Guarda caso È arrivata ed è incinta anche lei Giada perché hai invitato questa strega? Però che resta non dovevi essere nemmeno povera Cosa? Ma se mi hai invitata tu? Cosa stai dicendo? Amica Giada Vero che non l'hai invitata Infatti non sei gradita Puoi andare Tu quella è la porta No No Non è vero No Amica cara Giada diventate amica Giada mi vuole Per questo mi ha invitata E mi ha fatto entrare Dai andiamo Andiamo a giocare Sì dai andiamo a giocare Andiamo a giocare Sono salterendo Oddio Per sempre Forever Endeavor Vado L'uccido E torno Andiamo sul salterello Sì andiamo Dai salita salita Arriviamo No no dove vai No Vieni in piedi Annusa annusa Lascia la calzata Ammazzo Dai L'odio 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 No 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 Come sta La poverina La pozza La mia bambina E' un po' più pesante Che stai su qui Ma come siete grasse voi Allora Siamo tutte incinte Andiamo Andiamo Dai Quanto sei maldestro Si fa male La mia amica Giada così Lo sapevo io Non la dovevamo invitare Questa qui Hai rischiato di abbassare i pincevelli Io scendo Non voglio più giocare con voi Dai 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 Siamo Non è male Che sono andata Dai Siamo Che c'era Io Che Siamo Che bello Si Ragazzi Io devo andare Un attimo In bambina Non Litigate Ma Fino Si Mi 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 Giure 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 No L'amore È Bello E Questa Nasina È Bella Vai 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 Non c'è Bisogno Quel posto Bello È Mio No 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 Bravo No No Io Mi 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 Lascia Oh No No Che B Si No No Que l'amica del cuore la mia amica del cuore la mia amica del cuore la mia amica del cuore lascia la stai strangolando non è vero sei tu che la strangola ragazze no basta hai parlato fin troppo tu voglio farvi notare una cosa allora la cosa che vi voglio far notare è che è bellissimo avere queste pance è bellissimo essere incinte ma non abbiamo nessuno e dico nessuno che si prende cura di noi come facciamo chi è che ci massaggia le mani chi è che ci massaggia le spalle chi è che ci massaggia i piedi dai chi infatti chi ci prenderà cura di noi e dei nostri piedi esatto è proprio quello che mi chiedevo anch'io oh i nostri bambini ciao sono arrivato ciao davvero ci sono le tue amiche ma che bello è arrivato il papà che genuccio ciao ma mi aspettavate e quei pancioni? sì ti aspettavamo massaggino massaggino mi sono ricordato che aveva un impegno scusatevi buona serata a tutti ciao e qui schuccio mamma coso n McN McN Cox e comunque amiciotti se avete preferito nadiolla iscrivetevi particolare al canale e se avete preferito piccardo mettete un bel like questo video non avrà like certo Allora queste sono le mie purtroppo migliori amiche Purtroppo non capisco Vabbè comunque iscrivetevi al canale E attivate la campanellina E lasciate un bel like lo stesso E comunque ci vediamo al prossimo video Ciao Un super bacione Vai Io volevo fare il bagno ma Ho mangiato E restare in acqua fino a qua Tu mi fai Puoi dire che amare in più a noi Se c'è tutta la spiaggia che balla con noi Ok Siamo stai calmo Siamo stai calmo